Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella alle uova di Pasqua. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono cioccolato al latte, burro, latte intero, zucchero, sale, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato, vanillina, uova, rum che è facoltativo e per glassare cioccolato al latte. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro e il cioccolato. ed azioniamo il bimbi per 7 minuti, 50 gradi, velocità 3. Aggiungiamo il latte, lo zucchero ed azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 3. riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina, le uova, il lievito, la vanillina, il rum che vi ricordiamo che è facoltativo e il pizzico di sale. ed azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 4. Trasferiamo in uno stampa a ciambella del diametro di 22 centimetri. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Abbiamo tolto la torta dallo stampo e abbiamo fuso il cioccolato al latte, adesso lo verseremo sulla torta. Lasciamola solidificare a temperatura ambiente. Ciambella alle uova di Pasqua. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e 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 a tutti i